C'è una zona apparentemente incontaminata, nei pressi dell'argine del Bacchiglione, alle spalle dell'abitato di Capasqua, un luogo dove la caccia è espressamente vietata e infatti si possono incontrare numerose specie volatili, soprattutto rapaci. Ma da qualche tempo gli avvoltoi umani hanno cominciato a utilizzare quell'ansa come una discarica, recandovi frigoriferi abbandonati, calcinacci e altro genere di rifiuti. E negli ultimi mesi hanno fatto la loro comparsa prima uno, poi due, infine cinque grosse latte, che hanno determinato la loro funzione. Quale liquido contengono? È la domanda dei residenti e di chiunque ha cuore l'ambiente. Sono bidoni di oli esausti o nascondono scorie industriali ancora più pericolose? Chioggia Azzurra gira il quesito agli ispettori di Veritas, nella speranza che si risalga non solo a determinare il contenuto dei fusti, ma anche la responsabilità del loro indebito trasporto in un territorio da preservare. Continuano le promozioni della CAM, anche questa settimana le orate, quelle da 400-600 grammi, a soli 5 euro al chilo. Bisogna prendere una cassettina minimo da 6 kg, ma comunque è un'offerta eccezionale, ma oltre alle orate trovate tantissimi prodotti ittici, freschissimi, locali, esteri, ma comunque tutte cose eccezionali. Quindi c'è il parcheggio, potete parcheggiare tranquillamente, venite alla CAM e non rompete le scatole. Come il postino suona sempre due volte, anche lo smilzo torna sempre due volte e a volte anche tre. Infatti questa notte l'individuo che la notte precedente, sicuramente lo stesso individuo che la notte precedente è entrato dentro alla trattoria La Forcola di Fondamenta Canale San Domenico, è ritornato anche questa notte, ha spostato le telecamere un'altra volta, ma fortunatamente grazie a alcuni accorgimenti che avevano preso i titolari della trattoria in seguito all'avviso della polizia che il ladro sarebbe probabilmente ritornato, questa volta non è riuscito ad entrare. Ma non è tutto, perché alle 3 di questa notte, alle tre eventi precisamente, un altro ladro singolo, probabilmente sempre lo stesso, è entrato prima nell'oratorio dei padri salesiani e poi al cinema, il tutto per pochi spiccioli. I video verranno sottoposti all'indagine della polizia di stato che vedrà se l'individuo è sempre quello, e cioè il notissimo Andrea Penzo, che potete vedere qua da l'immagine, che è la stessa persona che due giorni fa è stata denunciata dalla polizia dopo che si era addosato, aveva riconosciuto la responsabilità di un furto in un panificio di strada Madonna Marina. Emergenza amici a San Domenico. Sono ben 35 i gatti censiti nell'isola dall'Associazione Protezione Animali di Chioggia, moltiplicatesi negli ultimi tempi, nonostante le 5 o 6 sterilizzazioni mirate praticate dall'APA già due anni fa. Qui si sommano quelle relative a felini catturati nelle altre cali di Vigo e poi rilasciati. La zona dell'ex Lazzaretto, peraltro, è stata ed è soggetta a lavori di sistemazione, ma il rischio è che le unità attuali diventino molto più cospicue. I costi per le sterilizzazioni, 120 euro per esemplari femminili, 90 euro per i maschi, degli ambulatori veterinari cittadini, stanno per essere sostenuti dai volontari grazie alle donazioni e le vendite dei calendari per il 2019, ma le difficoltà sono evidenti. Soprattutto perché la ULS 3 Serenissima sterilizza solo poche gatti ogni settimana, quindi la spesa di circa 3.000 euro rimane tutta sulle spalle di APA. Anche per la prossima settimana sono previste catture e conseguenti sterilizzazioni. Il Comune ha fatto sapere di non poter stanziare altro che i 15.000 euro già concessi per la lotta al randagismo. Per di più, in inverno salta agli occhi un ulteriore problema correlato. Non esiste un gattile apposito dove ricoverare gli animali durante il periodo post sterilizzazione, né quelli malati che si riscontrano per le strade. Il precedente non era idoneo, così i gatti sono rimasti in giro, ma ora i volontari non riescono più a garantire lo stallo. Vale ricordare che in città esistono altre colonie feline gestite da persone di buon cuore, come quella nei pressi della Scuola Media dei Conti. Cadrà alle ore 12 di giovedì 29 novembre il Bando Comunale per la realizzazione di un parcheggio scambiatore all'Isola dell'Unione. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con numero 130, il bando per i lavori parte da un importo base di 1.100.000 euro IVA esclusa e viene ufficiato dalla stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia. Il criterio principale di assegnazione è quello del miglior ribasso. L'opera è finanziata dai patti territoriali, era già stata prevista nel 2014 e risulta inclusa tra quelle immediatamente cantierabili nel piano triennale dei lavori pubblici. Il parcheggio scambiatore all'Isola dell'Unione potrà ospitare più del doppio degli autoveicoli rispetto alle attuali area di sosta, ovvero 84 vetture a pian terreno e 80 a primo piano, raggiungibile mediante una rampa. Il progetto esecutivo è realizzato dallo studio tecnico IPT di Padova. Nuova azione del nucleo locale di Casa Pound, che la scorsa settimana aveva affisso uno striscione al muro di cinta dell'ex colonia Turati di Sottomarina, arrecante la scritta vendere, non aspettare. La scorsa notte i militanti hanno appeso analogo murales all'ex cinema Astra, fermo da quando c'era la lira. «Vent'anni di coming soon», recita lo scarno testo, con riferimento proprio all'attesa infinita per il nuovo teatro. Chiaro l'intento di manifestare visivamente lo sdegno per lo stato in cui sono ridotti non pochi immobili pubblici nella città, acquistati in tempi di vacche grasse e poi non più manutenuti o destinati. Fra l'altro dell'Astra si è parlato proprio ieri in commissione consigliare, trattandosi di una delle opere che possono essere completate con l'avanzo di amministrazione di 40 milioni. Secondo il consigliere Dolfin, la struttura è giunta all'80% del restauro, mentre il dirigente dei settori lavori pubblici, Stefano Penzo, ha dichiarato che l'opera procede secondo i tempi fissati. Viene oltre notato che le due azioni di Casa Pound sono state effettuate attraverso scritte su lottori di carta rimovibile, non direttamente sui muri. Lo stesso non è accaduto con recentissimi manifesti affissi indebitamente alle pareti del polio scolastico di Borgo San Giovanni, al termine del ponte Cavanis e addirittura sulle pareti esterne del cimitero, il cui imbrattamento è stato segnalato alle forze dell'ordine. Amici carissimi di Netto Quazzurra e Meteo Brollo, buongiorno a tutti e bentrovati a questo appuntamento. Siamo all'alba di una situazione meteorologica alquanto strana nel mese di novembre, in quanto un possente anticiclone subtropicale prende possesso non solo d'Italia, ma anche di buona parte dell'Europa centrale, garantendo di fatto una stabilità meteorologica e termica di tutto rilievo. Naturalmente però questa stabilità dettata da questo forte anticiclone non è sintomo di belle giornate di sole e di ceri tersi, proprio perché la prima padana naturalmente porta con sé una fortissima umidità nei bassi strati, un nessun ricambio d'aria dovuto a scarsissima ventilazione presente all'interno del suolo e quindi naturalmente il tutto si trasforma in situazioni nebbiose, spesso molto persistenti anche durante la giornata e quindi anche con ceri che si presentano grigi e quindi compattamente nuvolosi. Una situazione che si proterà per buona parte della settimana a cavallo, quindi anche del prossimo weekend, quando a quel punto avremo probabilmente un cambiamento del tempo. Ovviamente con questo genere di tempo non solo la nebbia sarà un ingrediente pesante a sopportare, ma anche le polvi sottili e quindi gli inquinanti nei bassi strati la faranno da padrona. Vi aggiornavo un attimino sul cambiamento del tempo che dovremmo avere, si l'abbiamo già detto anche ieri, probabilmente avremo un ricambio d'aria dovuto a correnti di bora al suolo e di grecale dovute appunto a una formazione di aria molto fredda di Cesare Stemperusse che naturalmente in modo elettrogano prenderà possesso dei Balcani e probabilmente anche dell'Italia. Ma come vi ho già spiegato è ancora troppo presto per capirne le dinamiche. Molto probabilmente se questo si verificherà produrrà solo effetti di freddo e non di pioggia. Staremo a vedere. Per quanto concerne le temperature rimarranno comunque abbastanza elevate su standard ben più alti del periodo in quanto anche stante la copertura nuvolosa non andranno mai sotto i 10-11 di notte e mai sotto i 12-13 di giorno. Con questo vi ringrazio, vi aggo una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao! Ciao! Ciao!